Buongiorno ragazze e bentornate sul canale, oggi video di campagna 13 di Avon, questo è il catalogo. Iniziamo subito, ci avviciniamo al Natale, quindi ci sarà qualche novità di Natale. Ecco qua, iniziamo con queste due bellissime sciarpe che sarà possibile acquistare a 3,99€, sia quello da uomo che questa da donna, acquistando questa nuova fragranza da catalogo, che è l'Avon Illuminata, e per l'uomo Avon Segno Spray. Eccole qua, iniziamo appunto come vi dicevo con il lancio del nuovo profumo Avon Illuminata. Per chi ha modo di incontrare una presentatrice c'è anche la capsula per sentire il profumo, come indica il catalogo, ha una profumazione molto floreale. Questo invece è il profumo che dà possibilità di acquistare la sciarpa da uomo a 3,99€. L'offerta di campagna è la possibilità di acquistare questa borsa a 12,99€ per ogni prodotto acquistato da catalogo. Per chi lo volesse sapere, da quello che mi dicono le colleghe che l'hanno ordinato in anteprima, non ha la tracolla, quindi va indossata obbligatoriamente così, all'interno ha una lampo, e da indicazione di catalogo c'è la solita taschina porta cellulare e una tasca con zip all'interno. In anteprima per quest'anno, su quello che sarà il catalogo natalizio, ci sarà nuovamente una palette completa di ombretti, terre, fard e luci da labbra, quindi la troverete nella prossima campagna. Ecco i bagnoschioma tipici di questo periodo da parte di Avon a 2€. Potete preordinarlo se vi scaricate l'app di Avon o altrimenti sul sito di Avon e poi trovare una presentatrice che vi consegni il prodotto. Provate ad utilizzarlo perché sul catalogo di Avon ci sono tante offerte che sono addirittura più vantaggiose del catalogo e soprattutto vi permetterà di conoscere una presentatrice vicino alla vostra zona che potrà farvi le consegne o qualcuno che magari spedisce. Ritornano le palettine dell'Avon Mark, queste da 8 colori, a un prezzo di 9,90€. Poi da questa pagina possiamo prendere ad un costo di 10,90€ due prodotti a scelta fra questi che vedete, quindi i matitoni ombretto e gli ombretti in crema. Se sentite rumore sono io che preparo il pranzo, scusatemi. A seguire due prodotti a 9,90€, quindi troviamo il nuovo mascara che è stato lanciato nella campagna precedente. Due prodotti a soli 6,90€, quindi abbiamo le matite dell'Avon True e il gel per le sopracciglia. Il gel per le sopracciglia dura veramente tutto il giorno, non sbava assolutamente. Vedete, esiste in tantissime colorazioni. Ecco qua. Ah, scusate, no, anche in questa pagina sono sempre le matite per le sopracciglia, per chi preferisce la matita anziché il gel dove c'è bisogno di un pochino più di precisione con il pennellino. Anche queste durano molto, però vedete le colorazioni, io per esempio con le matite ho un po' di difficoltà perché per me il dark brown è comunque troppo scuro e il blonde troppo chiaro. Mentre qui sono riuscita a trovare con il light brown una colorazione più adatta. Poi due a soli 12,00€ è possibile prendere le perle sia queste qui in blush o il correttore 3 in 1 che è questo appunto compatto e vedete insomma la vastità delle colorazioni. Poi due a soli 10,00€ i rossetti matt di Avon e andando avanti due a 4,50€ troviamo tutta la selezione degli smalti, quindi l'Avon True e il Mark Gel. Poi a seguire abbiamo di nuovo le matite della Bing & Gel a 3,99€ in un'infinità di colorazioni. Poi in occasione è vero perché a novembre ci sarà anche il Black Friday, il migliore prezzo dell'anno a 2,99€ abbiamo il rossetto nutriente della Avon True e da quest'altra parte il mascara sempre arricchito con olio di argan, quindi della stessa linea. Poi qui abbiamo un set per 14 giorni a partire da 9,90€ queste praticamente sono delle confezioni piccoline quindi come una sorta di test da 15 ml che sono sufficienti per l'utilizzo per 14 giorni quindi diciamo un vantaggio per chi non se la sente di investire subito nel formato full size e sono molto comode, anche da viaggio devo dire promozione per i maschietti l'individual blu quindi deodorante roll-on, de parfum e deodorante spray e poi le promozioni del Little Black Dress per ogni formato maxi acquistato potrei avere un formato più piccolo a 1,99€ vale la stessa cosa per il full speed da uomo poi tornano questi profumini da 30 ml dell'Avon Shant Essence questi si possono miscelare fra di loro sono dei profumini molto delicati, molto dolci in alcuni casi più frizzanti come per esempio questo qui si possono miscelare fra di loro sono dei profumini leggeri ma che assolutamente sono gradiboli soprattutto perché non ama profumi troppo troppo intensi ecco qui le acque di Cologna sempre in promozione il set del Soft Mask il set del Celebre con anche la crema Mani della Planet Spa poi per ogni rossetta acquistata a pagina 42 e 43 potrei avere un pennello labbra a soli 2,99€ ecco qua quindi abbiamo i Long Lasting e i Plump poi offerta sulle matite labbra una a 3,99€ 3x10,50€ e vedo in quest'altra pagina anche per gli eyeliner allungaturata per la matita contorno occhi e per la matita scintillante contorno occhi quindi tutte le Glimmer Stick la promozione che riguarda la Footworks è di due prodotti a 5,90€ due prodotti a scelta sia tra gli accessori che appunto fra i trattamenti poi per quanto riguarda Avon Naturals 1 a 3,50€ 2 a 6€ questi sono i formati da 700ml e abbiamo tutta la linea offerta Bubble Butt 1 a 4,99€ 2 a 7,90€ sono i formati da 1 litro e qui trovate tutte le profumazioni che sono valide per l'offerta andiamo di bigiotteria a partire da 4,99€ l'1 abbiamo questi bellissimi braccialetti cominciate a pensare al Natale sono dei simpatici come regalino natalizio e qui abbiamo un pochino di orologi inoltre non so chi si ricordava di questa collana ad anello esce anche in altre colorazioni la prima era nera adesso ci stanno in diverse colorazioni poi altra offerta per ogni prodotto acquistato potrei avere un secondo a soli 2,99€ si riferisce a tutta la linea dei detergenti dell'Avon True quindi l'acqua micellare lo scrub il detergente tutto in uno la mousse detergente altre offerte su Natural Effect le maschere scusate le maschere e le creme e poi in promozione a 7,99€ uno dei prodotti più amati degli ultimi lanci di Avon quindi questo olio nutriente anti-idratante e anti-età va agitato prima dell'uso e si utilizza veramente con il contagocce la BB cream dell'Avon True e poi via con la Clear Skin che a soli 4,50€ vedete un po' tutta la linea poi sempre in funzione del Natale cominciamo a pensarci per tempo ci sono sia gialle creme in edizione natalizia da 30ml per le mani a 1,50€ altrimenti da 75 a 1,99€ la linea classica quindi senza il pack natalizio ecco qua anche un'offerta sui deodoranti e poi l'Avon Care ecco qui quindi la linea Cetriolo e Aloe la linea La Pappa Reale e la linea Amatissima al Burro di Cacao dove si trova in offerta solo 1,50€ il Burro Labbra poi tutti e tre a soli 7,99€ sempre la Footworks questa è la linea che dico da molto di natalizio quindi ha la cannella e arancio e trovate il pediluvio lo scrub esfoliante e la crema idratante per i piedi in questo set qui invece ci sono un po' di accessori per la cura per la pedicure e la manicure poi andando avanti si pensa anche più piccolini tutti e soli a 9,90€ e poi via ecco qua con le acque profumate sempre la One Naturals 2 a 4€ vi rifaccio vedere lozione corpo gel doccia al polpelmo le maschere per i capelli questa è addirittura 1,2,99€ ci sono le maschere ecco qua e qui entriamo proprio in area natalizia tutti e tre i prodotti Winter Magic a 6,50€ quindi il sapone per le mani il bagno doccia in formato più piccolino e il bagno doccia in formato più grande questo anche per dare quel senso di Natale nell'ambiente casalingo e poi tutte le altre profumazioni i detergenti intimi quindi la linea Skin Soft e per chi è in previsione di partenze all'estero perché no le creme solari poi andiamo avanti con qui c'è un'altra promozione che per ogni prodotto acquistato da pagina 76-77 potrete scegliere un campancino del fondotinta cremoso in polvere Flower Savon True ecco i prodotti io ragazzi ho preso questi sono fantastici in tutte le colorazioni i matitoni correttivi e tutta l'altro il resto della linea marca che non credo sia in promozione andiamo avanti con gli altri prodotti quindi il fondotinta in perla questa novità è una spugnetta per l'applicazione del fondotinta il bestseller dei fondotinta Avon quindi l'Avon True e i duo definisci scolpisci dell'Avon Mark poi gli illuminanti lanciati in qualche campagna precedente in stick che esistono in queste due colorazioni la cipra in polvere libera il fissatore e altri pennelli poi eyeliner e il solito applicatore per imparare a metterlo per chi proprio come me è ciompa e non ci riesce e le palettine ormai queste sono veramente vendutissime sono a quattro colori possono essere utilizzate da asciutto e da bagnate e ecco qua il nuovo eyeliner con la punta tonda poi torniamo nuovamente sui mascara qui c'è praticamente tutti i mascara dell'Avon in esposizione il kit per le sopracciglia e ritornano anche gli ombretti mono poi solita pagina ampia vetrina dedicata alle unghie e a seguire si va sulla color trend quindi gli ombretti trio di ombretti mascara le matite per gli occhi il fondotinta a 3 euro e 99 le cipre i correttori e di nuovo gli smalti ecco qua anche nuovi prodotti per la manicure l'offerta Avon Plus è 3 a 39 euro i profumi questa volta sono il tomorrow l'everything e l'always poi perché non provare a 14,95 la promozione sul rare pearl e via ancora con i set con il marmeride red altri profumi in offerta vado un po' veloce se no il video veramente ragazze non finisce più ci sono tantissimi formati da 30 millilitri e l'offerta sul nuovo Amon Farawail Rebell perché se lo chiedesse questi sono in spray non in roll-on come erano tanti anni fa viva la vita sono tutti e due prodotti a 15,99 altri prodottini da 30 millilitri ho detto una cavolata no questi sono i formati normali scusate da 50 il set del mesmerade blu altri profumi sapete se avvicina il natale i profumi vanno alla grande qui c'è un'altra promozione 1 a 2,99 2 a 4,90 e andiamo avanti e si inizia con la stessa cosa per i profumi maschili quindi il set e gli altri profumi della linea singoli ci sono praticamente tutti poi andiamo su il nuovo lancio di questo shampoo della Advanced Technique quindi sono comunque 400 millilitri il formato è grande e questo è contro la forfora a soli 3,50 euro all'uno ma qui trovate tutto il resto della linea quindi dal nutriente lisciante tutti quanti veramente a seguire tutta l'attrezzatura per i capelli quindi dagli oggettini per fare delle acconciature facili allo shampoo secco allo spray nutriente lucidante all'olio di cocco poi novità bigiotteria orecchini e collana il set a 7,99 vi ricordo arrivano sempre in deliziose scatoline quindi ideali per i regali di natale poi a solo 4,99 questo è un super prezzo soprattutto per quanto riguarda l'idratante che normalmente ha un costo molto più alto l'emolliente io ne sto terminando uno a breve vi farò la recensione e questi sono i rossetti della linea lux quindi un prezzo particolarmente vantaggioso come vantaggioso il prezzo a 10,99 per il fondotinta della stessa linea a 12,99 abbiamo la cipra delle new quindi qui troviamo tutti i prodotti delle new in esposizione e il lac la mon lac poi le offerte sulle maschere della planet spa le troviamo tutte quante a 2,50 euro l'uno altri prodotti della mon spa la linea e new skin perfect e questa invece è la new reversalist poi questo nuovo oggettino questo serve una spazzola elettrica per la pulizia del viso viene dotata di tre testine differenti una per la pulizia a fondo una con sfere massaggianti per l'applicazione della crema quindi per mandare più in profondità la crema e unirla nel contempo ad un massaggio per il volto e il pennello in silicone per sfogliare della linea new troviamo anche questi altri prodotti e vado avanti velocemente perché praticamente arriviamo subito a questa novità quindi la promozione dei reggiseni della Wonderbra in vendita sul catale di Avon in questo caso informatevi tramite la vostra presentatrice perché come potete vedere le taglie si fermano molto prima rispetto a quelle della Avon e soprattutto risultano più piccoline rispetto a quelle Avon quindi non potete far fede a quello che è il classico misuratore della Avon informatevi bene prima di acquistarle guardate quanto è bello questo per non parlare di questo lo ha d'aro eccolo qua sono tutti veramente molto belli e andiamo avanti con i bijoux collezione la lana a partire da 7,99 guardate quanto è bella e guardate che carini gli orecchini poi andiamo avanti sempre con la bigiotteria andate spettacolo ed è questa con una collana veramente molto lunga a soli 8,99 e c'è l'anello abbinato ampio spazio al bijoux ma vi ripeto è normale è un po' standardizzato quando si va ad avvicinare il Natale i prossimi due cataloghi sono abbastanza prevedibili in termini di offerte arriva in novità anche questo bellissimo vestito che può essere indossato in questi modi differenti perché praticamente questa parte che venite su è una mantellina che si può togliere sempre per il Natale comunque per il periodo delle feste rilancia nuovamente questo reggiseno che può essere indossato in tutti questi modi differenti a seconda dell'abito che andrete ad indossare altra novità è questo vestito in simil velluto arrivano anche queste bellissime gonne la maglietta già la conoscevamo l'ombrellino si avvicina con la stagione altra idea regalo la sciarpa con il cappellino abbinato arrivano anche queste bellissime pochettine in finta pelliccia le scarpe già le conoscevamo sono molto eleganti come colorazione borsa scialle ecco qui un pochino di vestiti e accessori anche per gli uomini guardate che bello questo di orologio a sole 19 e 99 arriva finalmente anche il borsone per il weekend da uomo il portafogli ciabattine guardate che carino questo pigiamino a 27 e 99 loro lo indicano sempre come tuta spazio abbigliamento per il tempo libero io sinceramente li uso come pigiami anche perché solo per la colorazione forse la felpa volendo ma lo vedo più come un pigiama arriva anche l'intimo il classico intimo rosso natalizio guardate che carine anche queste pantofoline come idee per natale i vari pigiami guardate queste pantofoline a 5 e 99 e poi anche per i più piccolini quindi torna nei pigiami della linea star wars e con le principesse della disney per le femminucce oggettistica quindi questo già lo conoscevamo il salvadanaio la penna ricarica cellulare il porta scialle e troviamo in offerta alcuni prodotti usciti da alcuni cataloghi quindi questi set per tenere in ordine e fare più rapidamente le proprie valigie per le vacanze poi abbiamo i profumatori per gli ambienti il diffusore questo è quello che cambia colore ecco qua vediamo ecco qui i colori che può assumere il prodotto e poi c'è questo aggeggino che si mette nella vasca per far cambiare il colore all'acqua anche lui cambia diverse colorazioni poi oggettistiche questi siamo per i prodotti casa qui vi segnalo questo set di contenitori a 5 e 99 guardate che bellino questo completo vado in anteprima per fare ancora più natalizia alla vostra casa e l'outlet al 75% di sconto fino al 75% di sconto qui troviamo tutti i prodotti che già conosciamo poi l'offerta di benvenuto è questa con le tue fragranze preferite a soli 2,50€ l'uno per ogni prodotto acquistato a pagina 1.82 potrai scegliere in omaggio il campioncino tra Avon Life Color cos'è l'Avon Life Color cos'è? è un nuovo profumo che verrà lanciato nel prossimi cataloghi poi iniziamo con l'anteprima di Natale quindi il famosissimo set far away che non manca mai in tutti i Natali Avon a 16,99€ eccolo qua poi iniziamo come al solito con tutti i set ecco qua di Natale in edizione natalizia troviamo anche queste bellissime confezioni a forma di pallina di Natale sono 2 a 5€ e queste sono le profumazioni scelte d'Avon per quest'anno come al solito vengono fuori tutte queste confezioni natalizie dell'Avon Care quindi con le creme mani le creme corpo il burro cacao altra novità queste per i più piccoli sono i set dell'Avengers e il set di Frozen per le femminucce e poi anche i set per i papà per i fidanzati per i fratelli maschili oggettistiche natalizia di quest'anno il solito sotto albero secondo me questo è più bellino di quello dell'anno scorso e poi tutte queste oggettine l'illuminazione per la finestra le palline di Natale i soliti coprisedia le tovagliette quindi anche quest'anno possiamo veramente rendere molto natalizie le nostre case e quest'anno guardate che carini i set di pigiama papà e figlio abbinato e mamma e figlia abbinato e questi sono veramente carini tuta per il tempo libero e queste pantofoline a 9,90 con l'iniziale anche queste carine come dei regalo poi tornano i pigiamini di Natale questo per i più piccoli e questi bellissimi della Disney il set di calze e guardate che carino il calendario dell'avvento con tutti questi ciondolini che contiene fino a 26 pezzi i bracciali e tutti i set proprio natalizi ecco qua con questo abbiamo praticamente quasi concluso l'arena musicale questa pallina gira e si muove tutta la neve è veramente carina e poi in conclusione di catalogo ad 1 euro 2 euro e 5 euro tutti questi prodotti che vedete qui in esposizione chiude il catalogo l'offerta a 3 euro dei sieri del Advanced Techniques e in ultimo in chiusura di catalogo provo da solo 2 euro e 50 lo stilo della color trend vi ringrazio per aver seguito il video rimango a vostra disposizione per dei chiarimenti sui prodotti che avete visionato sul catalogo vi ringrazio ancora grazie grazie grazie